7 e 28 9 gradi siamo un po sotto la media però essendo domenica zero macchine e che dio ce l'avanti buono siamo quasi arrivati se hai già trovato due persone in zero funghi però tutti avanti si è trovato già due anni ma lei è vero questo è bellino sì questo è bellino guardate qua cosa c'è qui guardate che cosa c'è guardate mamma mia che gambo oggi è giuro adesso aspetta lei se l'ho trovata una decina lei è meno una è dura sì questo è bello sano questi sono belli belli uno e due questo è bello bello sodio questo è uguale mamma mia guarda un po qui due sono guarda guarda questo lavoro guarda questo lavoro questo lì è coppiola coppiola guarda questa è coppiola sì è coppiola si staccano guarda guarda che panciotto che so guarda che panciotto che sono non ho mai venti dicendo guardi il rucchi guarda qualsiasi guarda i miei video guarda in mezzo ci hanno il dichiamino uno e due e va alla macchina finalmente aveva perso gli stimoli abbiamo appoggiato i cesti lì si è fatto un giro e poi guarda dove era il fungo dietro i cesti guarda è bellino questo è bellino guarda ce n'è un altro piccino bellino a vederlo da sopra così sembra spettacolare poi non lo sai se è scoppiato cosa è successo vedi a vederlo così frontale no ma poi sotto è strano guarda come è venuto strano sembrava di essere soli c'è il mondo il mondo funghi staccati di tutto guarda questo è bello vediamo se staccato no è staccato no è staccato no 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 bravo grazie vieni vieni alza 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 ah bello ormai ormai siamo da viottolo si trovano dei viottoli guarda un po' se riesci a levare lì che a domani soffri belli no no sono belli se ne fossero se ne fossero questo è più bellino ma chiamato la monica ma siamo assicurati e questo è più bellino ma chiamato la monica ma siamo assicurati ci è venuto il mondo ieri sabato bellino dio buono ne e quell'occhio l'hanno visto ci sono passati davanti boia de e come hanno fatto a un vederlo ma lo sai che questo è quello che si era lasciato monica te lo dico io c'era le spugnette ho passato i due con un cane anche i animal attaccati boia de un via nemmeno via bello bello questo è bello tosto eh e il mio castagno non mi tradisce mai questo è un altro bel bocciotto eh guarda questo è già staccato di suo guarda uno uno e due guarda uno è qui guarda è piccino dove sono qui sì uno è là quello è bello uno è qua perché non è bello guarda 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 finalmente qualcosa di bello in questo caso e anche questo è spettacolare uno e due avevo fatto uno e due ce n'è uno più l'avevo nemmeno visto e tre qui c'è poco da attappare questa è bella è la più bella attaccata e anche questo si fa la criglia questo è pollicino vai Revalo vai c'è gente è da fiato è bella è bella bello 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 com'è questo fatti vedere bravo tesoro bravo aspettaci lì e non ti muovere va bene? si fa lo stesso è troppo bello guarda che meraviglia il mio maratoneta cos'è? guardatelo amore si è sbriciolato eh? guardate tesoro ora bisogna ripartire un lufo un lufo un lufo sfatto amore dove ti metti? distrutto questo amore mio ci hanno camminato tantissimo guardate siamo ritornati sul luogo del delitto ne ho ritrovato uno ci siamo stati tre ore stamattina guarda di ritorno sul viotto ci sarà passato 8.500 miliardi di persone non ci siamo guardate 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 domani sono passato da qui si si ero con il mio canino e ha detto ce n'è uno grosso non l'ho visto ma non l'ho visto non l'ho visto ma l'ho visto oh figlio del signore benedetto guardate guardate un po' di là ci abbiamo fatto al nove il gambo è andato ma è bello guardate 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 Non si muove, ha fatto affatto e ha voluto rimontare sopra, ora ha trovato un altro, non ci va più via, ma dov'è, aiuto, aiuto, ma una è mia, ah sì, questo è più bellino, tieni, è possibile, siamo qui con il mio Hannibal che si fa la siesta, mi tocca sentire di mamma mia, mamma mia, questo è bello, dai per favore, ma dai, ma dai per favore, sulla strada. Ora qui come si fa? Non si può allevare questo, senti là che gambo, senti qua che gambo che c'ha. Adesso, ho chiusura di giornata. qua ce n'è un altro ancora altri due guardami che lavoro